Decimo anniversario teatrando al quadriportico, cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Allora, delle novità ci sono, per il decimo anno ci può stare. Quest'anno noi apriremo il 4 di luglio, giovedì 4 luglio, e termineremo domenica 28 luglio. La compagnia organizzatrice, la compagnia Sceppa Centrella, unitamente all'associazione Planum Montis. Quest'anno apriremo come sempre con la scuola di danza di Francesco Boccia, New Space of Dance, e il giorno dopo avremo una novità, che è l'associazione Oltrepass, Contropasso, che praticamente in costumi d'epoca dell'Ottocento accoglierà tutto il pubblico nell'Argo Montone, che è una piazzetta immediatamente vicina al quadriportico. Dopodiché in promenade accompagnerà questo pubblico al quadriportico per la prima rappresentazione che sarà eseguita dalla compagnia Le Voci di Dentro, con il primo spettacolo teatrale vero e proprio, che è il lucuraggio di un pompiere napoletano, di scarpetta, quindi con un classico. Poi ci apriremo a tante altre rappresentazioni, tra il classico e il moderno, fino al 28, in cui ci sarà la compagnia Sceppa Centrella, che è l'organizzatrice, che chiuderà la rassegna della decima edizione.